Spaccata nella notte a Berbenno via e-bike per 50.000 euro. In Val Furba le incisioni rupestri più alte d'Europa. Variante di Tirano in centinaia per vedere l'avanzamento lavori. Sondrio Festival dalle vette agli abissi del mare. Consapevolmente tipico conquista Sondrio, calcio bene la nuova Sondrio che con un gol nel finale vince a Lodi. Un saluto e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Questa sera iniziamo con la cronaca perché la notte scorsa a Berbenno i gnoti con una spaccata sono riusciti a rubare 13 biciclette per un valore complessivo di più di 50.000 euro. Il fatto è avvenuto in una zona isolata e soprattutto i ladri hanno reso inservibile il sistema di videosorveglianza del negozio. Il servizio. Spaccata da professionisti la scorsa notte nel centro Emotion Electric Bike di Berbenno situato in via Fusine sulla provinciale 16. Dopo essersi presi pure la briga di spostare un grosso tronco dove di giorno le biciclette venivano messe in esposizione i malviventi sicuramente almeno tre o quattro hanno divelto le vetrate del negozio procedendo in retromarcia con il furgone sul quale poi hanno caricato ben 13 biciclette 12 bike e una da strada e si sono dati alla macchia. Il danno ammonta complessivamente a più di 50.000 euro tra valore delle due ruote e le vetrate da sostituire. Il tempo di ricevere la notifica sul cellulare collegato all'allarme del negozio racconta il titolare e mi sono precipitato lì anche perché dalla telecamera non si vedeva alcunché e poi ho scoperto il motivo. Erano le 3.13 e sono arrivato sul posto le 3.20 ma i ladri erano già spariti con le mie biciclette. Il furgone è stato poi abbandonato poco oltre in località Valle di Colorina dove probabilmente vi erano dei complici ad aspettare i ladri con un altro mezzo su cui sono state spostate le biciclette rubate poco prima. Nessun ausilio agli inquirenti potrà venire dalla videosorveglianza che i malviventi che evidentemente nel preparare il colpo avevano effettuato più di un sopralluogo, avevano provveduto a rendere inservibile. Mi auguro che attraverso il numero di telaio sia più complicato per loro rivendere le biciclette che mi hanno rubato, dice ancora il titolare. Di certo fino a primavera la mia attività continuerà soltanto online, indaga la squadra mobile della Questura. Oggi a Palazzo Lombardia è presentata una nuova eccezionale scoperta ai piedi del ghiacciaio del 3.0 a 3.000 metri di altitudine. Le incisioni rupestri più alte d'Europa risalirebbero alla media età del bronzo tra 3.600 e 3.200 anni fa. Un'altra notizia sensazionale è questa, a pochi giorni soltanto da quella del ritrovamento nel parco delle Orobie di un ecosistema fossilizzato 280 milioni di anni fa e risalente all'ultimo periodo dell'era paleozoica. A distanza di pochi giorni dalla notizia del ritrovamento nel parco delle Orobie valtelinesi di un ecosistema fossilizzato 280 milioni di anni fa e risalente all'ultimo periodo dell'era paleozoica, stamane è stata resa nota un'altra eccezionale scoperta, i pietroglifi del pizzo 3.0 nel parco dello Stelvio nel comune di Valfurba. Si tratta di incisioni rupestri databili alla media età del bronzo tra 3.600 e 3.200 anni fa. Sono le più alte di Europa. Insomma, un ritrovamento molto importante che ha testimoniato la presenza dell'uomo ad altitudini così importanti, quindi a 3.000 metri, anche in tempi molto lontani. Il pro Nazionale dello Stelvio è veramente un libro a cielo aperto perché ogni giorno ci dà delle sorprese. Oggi in questo caso i ritrovamenti molto importanti che a seguito poi delle verifiche scientifiche che non sono state fatte ne hanno riscontrato l'autenticità, ma ci consegnano anche le evoluzioni che ci sono state nel clima. Gli studi sono stati presentati oggi a Palazzo Lombardia a diversi anni dalla scoperta fatta nel 2017 dall'escursionista comasco Tommaso Malinverno. Siamo a 3.000 metri ai piedi in un ghiacciaio, veramente a una quota altissima e dove non ci si aspetta di trovare incisioni rupestri ed è questo il motivo per cui la notizia viene data adesso quando la scoperta del 2017 perché non nascondo che abbiamo avuto timore, diciamo che potesse essere un falso. Abbiamo effettuato molti sopralluoghi, molti interventi proprio a conferma dell'autenticità di questo sito così particolare. Le incisioni del 3.0 si collocano quindi al confine tra due dei comprensori più ricchi di manifestazione ed arte rupestre dell'arco alpino. Le rocce e i massi incisi Camuni, patrimonio UNESCO e ormai noti a livello mondiale, e le altrettanto significative testimonianze valtellinesi come la rupe magna di Grosio tra le rocce incise più estese delle Alpi o le statue stelle rinvenute numerose nell'area di Teglio. Grande curiosità e interesse ha suscitato nel fine settimana la due giorni voluta da ANAS per mostrare lo stato di avanzamento lavori della variante di Tirano. Almeno 500 le persone che hanno approfittato dell'opportunità per vedere da vicino l'opera che cambierà per sempre la viabilità in zona, l'attraversamento di Tirano in primis. Sono state quasi 500 le persone che tra sabato e domenica hanno approfittato dell'opportunità offerta da ANAS a volta a mostrare lo stato di avanzamento lavori della tangenziale di Tirano. È stata un'ottima risposta da parte della cittadinanza, infatti siamo parecchio soddisfatti in quanto abbiamo avuto modo anche di portare a conoscenza di tutti i cittadini le opere che si stanno realizzando anche a tutti i cittadini di Tirano e della zona in quanto quest'opera è attesa da parecchi anni. Dal comune di Tirano dove è stata anche allestita una mostra con pannelli e video dedicati ai lavori sia sabato che ieri sono partite le navette con i visitatori cui i tecnici in veste di Ciceroni hanno illustrato le opere svolte e quelle ancora da ultimare. Stiamo lavorando a ritmi serrati proprio per chiudere il cantiere entro il 31-12 del 2025 si stanno completando gran parte delle opere principali stiamo lavorando H24 sulla galleria naturale e 7 giorni su 7 il cantiere è stato aperto su tutti i fronti. Ritmi serrati per completare un'opera tanto attesa ma anche tanto complessa. Dal punto di vista ingegneristico ci sono tutte le opere che si possono incontrare nel mondo dell'ingegneria civile. Parliamo di due gallerie, un'artificiale chiamata il Dosso 1 lungo l'asse principale e la naturale il Dosso, i due ponti di cui uno ha tre campate sull'Adda in località Stazzona e l'altro ha due campate sempre sull'Adda in zona industriale a Tirano. Vanno aggiunte poi le quattro rotatorie di Villa di Tirano, Stazzona, Tirano e Campone e i quattro sottopassi al tracciato principale e i tre sotto via per ricucire la viabilità locale. L'investimento per la variante di Tirano, struttura inserita nel progetto accessibilità valtellina per i giochi olimpici invernali, ammonta a circa 221 milioni di euro. Una volta terminato, il tracciato che sposterà il traffico che ora attraversa l'abitato di Tirano avrà una lunghezza complessiva di circa 6,6 chilometri a partire dall'intersezione tra l'esistente Statale 38 con la rotatoria di Villa di Tirano fino alla rotatoria terminale del Campone. Dall'alpinismo estremo di Marco Confortola alle profondità marine esplorate da Mike Maric passando per il gioco di squadra della Balanga Azzurra. Il Sondrio Festival ha aperto i battenti questo fine settimana registrando subito il tutto esaurito. Dai documentari che hanno mostrato gli effetti del cambiamento climatico alle discussioni sull'importanza di proteggere le risorse naturali il Sondrio Festival ha offerto un'occasione per riflettere sul nostro rapporto con il pianeta. A inaugurare le conversazioni del Sondrio Festival ci ha pensato Marco Confortola che durante l'intervista con Maurizio Torri ha parlato del suo ultimo libro Oltre la cima dove racconta la sua avventura sul K2 e riflette su come le esperienze del passato possono aprire le porte al futuro. Le sue considerazioni hanno trovato un eco nelle parole del glaciologo Claudio Smiraglia che forte della sua esperienza sul campo ha offerto un'analisi puntuale allarmante della situazione dei ghiacciai. Smiraglia ha lanciato un appello pressante alla necessità di un cambiamento radicale nei nostri comportamenti al fine di preservare l'ambiente e le sue risorse. Tanta gente nella tenso struttura in piazza Garibaldi a vedere l'esposizione dei grandi felini ma tutto esaurito anche per le tante iniziative in calendario. Sabato sul palco del Sondrio Festival sono saliti Andrea Piovan e il campione di apnea Mike Maric che hanno parlato di respiro consapevole offrendo al pubblico strumenti pratici e spunti di riflessione per migliorare la propria qualità di vita. Un approccio alle tecniche di respirazione e alle tecniche di meditazione dovrebbe essere insegnato sin dalla teneretà perché i vantaggi di saper gestire l'ansia, il vantaggio di saper creare la propria armonia, il vantaggio di saper gestire la propria emotività quando si è a scuola, un'interrogazione, un compito in classe per poi crescere e affrontare l'università o il mondo del lavoro è qualcosa che manca. che quindi dovrebbe essere educato nella nostra cultura occidentale perché ti permette di crescere con dei capisaldi sani. La domenica è stata la volta della proiezione del documentario La Valanga Azzurra diretto da Giovanni Veronesi. In sala presenti oltre al regista Paolo De Chiesa, Piero Gross, Chico Cotelli e Lorenzo Fabiano per una serata che ha registrato il tutto esaurito. E in fatto di fine settimana un altro successo è quello che ha messo segno consapevolmente tipico. Tra degustazioni, mercatini e laboratori il capoluogo ha accolto migliaia di visitatori che hanno potuto scoprire le eccellenze agroalimentari e locali insieme appunto al Sondrio Festival. Vediamo. Sabato e domenica Sondrio ha visto un'enorme affluenza di visitatori per consapevolmente tipico la manifestazione agroalimentare che ha unito il tradizionale formaggi in piazza con natura in bellezza. In concomitanza con il primo weekend del Sondrio Festival consapevolmente tipico ha messo in vetrina i prodotti del territorio con mercatini, laboratori, degustazioni, passeggiate e street food. Quindi non solo formaggi ma anche piccoli frutti, miele, olio e salume a chilometro zero sono stati i protagonisti di questa manifestazione che ha unito l'eccellenza agroalimentare con la scoperta dei musei, dei palazzi storici e dei monumenti del capoluogo. Sono stati anche veramente molto apprezzati i percorsi culturali che abbiamo fatto insieme all'Ufficio Eventi che ringrazio con le guide storiche quindi hanno fatto conoscere ai nostri visitatori una sondrio diversa quindi hanno potuto scoprire una sondrio veramente particolare partendo dalle cantine del palazzo Sassi della Vizzare quindi dalle nostre cantine del museo. Non sono mancati gli ospiti che hanno reso ancora più speciale questa prima edizione di Consapevolmente Tipico. Edoardo Franco, vincitore della dodicesima edizione di Masterchef Italia e finalista all'Isola dei Famosi 2024 ha presentato la sua cucina consapevole e creativa invitando a svuotare il frigorifero contro lo spreco alimentare e Ade Egidio, direttamente dalla trasmissione Cash or Trash ha realizzato un laboratorio creativo di gioielli con tessuti di recupero in una sala Celestino Pedretti gremita di persone. Un patto pazzesco con Sondrio che mi ha accolto in una maniera meravigliosa mi hanno salutato per strada appena sono arrivata quindi grazie Sondrio siete meravigliosi! E ora il Sondrio Calcio reduce da una vittoria fondamentale per continuare la scalata verso la zona alta della classifica il servizio In una partita combattuta e ricca di emozioni la nuova Sondrio ha espugnato il campo del fanfull portando a casa tre punti fondamentali A decidere l'incontro è stato il gol di Cavaliero che l'84esimo ha trafitto la porta avversaria con un preciso colpo di testa Il primo tempo è stato molto equilibrato con entrambe le squadre che si sono studiate a lungo Un gol annullato per fuorigioco a Badige e una sola parata di Rodriguez hanno contraddistinto i primi 45 minuti La svolta della partita è arrivata nella ripresa Dopo diverse occasioni create dalla nuova Sondrio in particolare con Belecco e Badige il match ha subito una svolta decisiva con l'espulsione di un giocatore del fanfull La superiorità numerica ha permesso agli ospiti di intensificare la pressione offensiva e di creare maggiori pericoli nella metà campo avversaria È stato proprio in questo frangente che è arrivata la rete del vantaggio Dopo una lunga azione corale il pallone è arrivato in area piccola dove Cavaliero, con freddezza ha insaccato a porta vuota un gol che ha premiato la maggiore determinazione e la maggiore incisività della nuova Sondrio Nei minuti finali il fanfull ha cercato in tutti i modi di pareggiare ma la difesa ospite ha retto bene portando a casa tre punti fondamentali La vittoria è stato il frutto di una prestazione solida e concreta che ha permesso alla nuova Sondrio di consolidare la propria posizione in classifica Con questa vittoria la nuova Sondrio dimostra di essere una squadra solida e determinata capace di ottenere risultati importanti anche in trasferta Martedì riprenderanno gli allenamenti in vista dell'importante match di domenica contro il San Giuliano una formazione che forte del suo blasone si presenta come un avversario molto ostico E questo era l'ultimo servizio vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo la rivederci ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Telesondrio News Grazie a tutti Grazie.